Buongiorno da Ilenia e da Morgana! Allora, qua è tutto sfalzato Morgana, perché mi cambia colore? Partiamo già malissimo? Fa niente! Cosa andiamo a vedere oggi? Andiamo a mangiare dei macarons! Andiamo a mangiare dei macarons? Questi qua li avevo trovati in edicola e pensavo che erano da mangiare! Sono gli Skiffy del Macarons Clay Butter! Ah, quindi erano dentro il burro? No, erano dentro lo Skiffy del Macarons Clay Butter! Ah, insieme mi hanno dato anche questa, guarda! Sì, allora, questi costano un euro, vediamo se c'è scritto... Vabbè, prodotto non commestibile! Ciao, io non avevo letto! Allora, gadget non vendibile separatamente, vabbè, alla rivista... No, non c'è sul prezzo... Comunque vi posso assicurare che sono costati un euro! Questa è la mega rivista che vi danno insieme... Mega, è proprio enorme! Beta! Grande come la mano di Morgana! Dunque, vabbè, qua vi dà le avvertenze sugli Skiffy del Macarons Clay Butter! Tutti profumati! Metti a fuoco, grazie! Grazie! Qua dice, vabbè, aprire la bustina, togliere il tappo, manipolare e spalmare lo Skiffy del... in modo da renderlo soffice come la neve! Poi dice di non lasciarlo troppo esposto all'aria perché si secca... E di andare avanti! E quando non vuoi più giocare, di metterlo dentro nella... nel suo Macarons e di tenerlo chiuso! Queste sono le profumazioni, sei profumazioni diverse, sei colori diversi... Violetta, menta, mix di fiori... Mix di fiori, lavanda, rosa, lilla... Belli! Dai, saluta! Ciao! È arrivato anche Mirko! E dunque, questi qua sono i sei colori e le sei profumazioni! Questo è... Cos'è? Ciao, sono super... Ah, beh, qua... Ah, qua praticamente è l'indice di quello che possiamo trovare nel libretto! L'arte di arrangiarsi... Ah, parla dei canarini! Una volta i canarini ne avevo... Avevi gli inseparabili! Gato! Sì, beh, ma ancora quando ero piccolina avevo i canarini! La nonna aveva i canarini! Qua ci sono dei giochi, qua c'è le montagne più alte del pianeta! Everest K2! Ma va! E niente, è finito! Costo... Un euro! Uno e basta! Uno, finito! Un euro! Apriamo? Allora, io... Che quattro! Io vorrei aprire questo qua, Viola! Io apro... Questo qua! Io apro... Io apro quello... Quello... Aspetta, iniziamo! Allora, tiriamoli fuori tutti da... Io tiro fuori questo qua, dalla busta... Così li facciamo vedere... Ma non taglio niente alla trafodice! Ah, qua è anche fuori, guarda, qua è uscito fuori! Che profumo! Mamma mia, che mix di profumo! Qua c'è un piccolo... Sì, che poi guarda, il colore non... Ecco, questo è il suo colore più o meno giusto! Qua c'è un piccolo gancino per fargli passare una corda... Un... E poi la collanina! Qualcosa per fare la collanina! Allora, apriamo! Eta! È duro adesso! Sentire? Ammazza! Cos'è che è questo qua? Violetta! Posso sentire... Io so già che l'unico che mi piacerà... Sempre al vino! L'unico che mi piacerà... Ok, qua ci sto per lasciare l'unghia... Sempre al vino! Dovrò andare a farmela rifare... Non ti lo faccio... Vai, mo! Qualcosa mi dice che parte via! Schifidon! Bravissimo! Ma dai, che voglio sentire il mio rumo! Eh, questa qua è proprio menta piperita... Ita, 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 ita... È menta! È menta, amore, sentite! Perché questo è il Vix? Quello che ci metti sulla... Sì, ma è già... È menta! Io l'ho già... Aspetta... Anche io... Aspetta... Sentra... 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 Sentra bullo! Hai visto? Fatti butter! Perché è butter! Nel Vix? Ha... Ha... Bello! Bello, vero? Tu c'è? No, la zura, la voglio fare io! Mi ho metto qua! E la, poi, questi due! No! Che bello, questo qua è tipo un turchese E questo qua è lavanda In teoria dovrebbe piacermi a me Io adoro la lavanda Allora, speriamolo fuori Ciao, fratari Laki, in ogni video devi farti sentire Laki Bello Poi, nell'ultimo, questo qua, rosa Volebbe essere Laki Laki Mi piace Aspetta che voglio provare a E ci sono i bambini che fanno un casino, ecco perché Lilla non sa niente No E si spalma bene Sembra 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 un bullo Brava, ha rovinato lo sfondo Ha rovinato lo sfondo Brava No, faccio io Ah, guarda Bello Si attacca Si attacca Si attacca un pochino Invece questo è Vedete, vedete cos'è? Lilla Posso sentire Senti Volo Sembra vicinette Sembra anche me vicinette Questo sembra veramente neve Sembra neve Mi piace Mi piace Mi piace la consistenza mi piace proprio Sembra blu Ehm Non è male Ma che c'è un po' di blu attaccato al dito? Aspetta arrivo eh Devo togliere Vai Dammi l'unghia No Io L'unghia Si sta attaccando ancora di più Fa niente Bello mi piace Bene Posso anche concludere quel video Si Tanto è un video veloce Già Era giusto per far vedere Questi quattro schifido E devo dire che Questi qua battere alla fine sono i migliori secondo me No io io preferisco quelli cristal Davvero? Io voglio Perché poi puoi fare le bolle Le bolle E puoi fare Tipo le scorreggie Ecco A me questi qua piacciono Si Piaciono tanto Boh forse perché sono Molto antistress Mi piace il colore di quello di rosa È un rosetto Sì è un rosetto Va bene Direi Di salutare E ci vediamo al prossimo video Intanto che loro si divertono a A masticare A masticare A giochettare con Con lo schifido Noi vi salutiamo Spero che questo video veloce vi sia piaciuto Se vi piacciono Andate in edicola Che li trovate a un euro Mettete un bel like al video Iscrivetevi Ci vediamo al prossimo video Va bene Ciao 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 Ciao